Bridgestone è la società leader al mondo della produzione mondiale di pneumatici, siamo qua per presentare i nostri prodotti. Bridgestone è sempre stata presente nel mercato con il prodotto Firestone, diciamo che Bridgestone ha deciso di focalizzare di più nel settore agricoltura con i pneumatici prima Firestone e in ultimi anni, infatti abbiamo rinnovato tutta la produzione dal 2010 al 2013 e oggi siamo qua per introdurre il prodotto Bridgestone, per essere presenti nella gamma alta dei trattori di alte potenze e per competere con i principali concorrenti di questo segmento. Siamo qui per presentare il prodotto Bridgestone VT Tractor con la tecnologia VF Very High Flection, questo vuol dire che i fianchi dei pneumatici sono molto flessibili, che consentono a questo pneumatico di lavorare con tutto comfort su strada e comunque hanno questi pneumatici una carcassa molto più resistente rispetto ai pneumatici standard, tant'è vero che questi pneumatici possono anche essere sovraccaricati del 40% rispetto ai pneumatici standard, possono essere utilizzati nel terreno a una pressione di 0,8 e possono essere utilizzati alla stessa pressione anche su strada, quindi questi sono i benefici di questo pneumatico, tutto questo è stato anche sancito dal test DLG che ha dimostrato che questi pneumatici permettono in un giorno lavorativo di aumentare la resa di 0,9 ettari in un giorno, di risparmiare fino a 36 litri di benzina in un giorno di lavoro, quindi sono dei valori aggiunti, questo pneumatico oltretutto è stato anche progettato e prodotto per poter essere utilizzato su dei cerchi normali, cosiddetti stretti, la cosiddetta tecnologia NRO, Narrow Rim Option, quindi c'è un'opzione di poter montare questi pneumatici su dei cerchi stretti, e questo è un vantaggio per l'utilizzatore finale che non deve acquistare oltre a questi pneumatici anche degli altri cerchi più larghi, che normalmente è richiesto dal ente europeo ETRTO, e quindi questo è un grosso vantaggio per l'utilizzatore che con una spesa del solo pneumatico può utilizzare questa tecnologia WF. Vi invito a visitare il sito Bridgestone, bridgestone.it, per vedere tutte le novità e anche tutto il range delle misure disponibili sia di Bridgestone che di Firestone. Grazie a tutti!